Musica 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 Super 2000 DP Autosport 23 minuti e 42 secondi 5 devono scendere perchè sono secondi di classe e quarti di gruppo undicesimi assoluti e andiamo avanti? Certo che andiamo avanti quarti assoluti di Lombardia Long Cup e primi della categoria Super 2000 abbiamo detto numeri e dati adesso a te commentarli Gilly è stato bellissimo volevo ringraziare il team perchè è stato molto professionale con me e siamo riusciti anche a difenderci abbastanza bene da questo campione che è se ne è appena andata ecco Tommaso lunga la manina magari ad abbracciare la manona invece di Gilly ringraziamenti che vanno ovviamente a questo signore che spero abbia finito le bottiglie di spumante ossia Alessandro Pedrocchi che è il patron insieme a Marinella Do della DP Autosport Modioni Rocco Scoda che è un team della Repubblica cieca, lo dico io Sare invece 30 Tornante destra scivola 50 destra 500 200 destra destra stacca per sinistra 4 meno scivola In destra 2, 3 vai 30 Sinistra 5 lascia 5 lascia per sinistra 5 tieni Subito destra 5, 4 lascia Su Ponte scivola per destra 4, 5 tieni 150 Non è che non è successo niente Sinistra 5 E Destra e sinistra 4, 50 Stacca subito Sinistra tornata da sinistro Stretto In destra 5 lunga per sinistra 5 E Destra 5 lunga subito Sinistra 4 secca 20 Destra e sinistra 4 meno tieni 20 Tornata destro Tranquillo 30 Vai su tranquillo Destra e sinistra 5, 20 Destra 4 stai sotto per Sinistra 5 lunga vai 50 Destra stacca per tornata a sinistra Non l'abbiamo buccato Vai tranquillo Dai 50 Destra 5, 80 Sinistra 5, destra 4 sì Subito sinistra 4 più vai 20 Tornata destro Molto bene invece Per sinistra destra 5 150 Destra 5 150 Molta attenzione Tornata a sinistro largo In Destra 5 Per sinistra 5 E destra 5 lascia 20 Destra 4 meno subito sinistra 2 più vai 2 più vai In Destra 5 50 Tornata a sinistra 5 Tornata a destra Per medio Eh scusami hai ragione Dopo te lo dico In sinistra 5 80 Destra lascia Per albino Destra 2 3 vai Per sinistra 5 Lunga lunga tieni Siamo sotto di 1 20 Destra stacca per tornata a sinistra No Siamo sotto di 1 Meno 1 150 Anticipa Destra 4 Secca 5 50 Albini sinistra 3 Meno meno 4 Meno meno 4 Per al cartello Sinistra 4 tieni 20 Destra 5 4 Subito tornata a destra In Sinistra 5 lunga 30 Ritarda Destra 5 Meno In sinistra 5 Subito destra 3 4 5 Lunga lunga Per destra 4 Stacca tornata a sinistra 50 Sinistra 5 Lascia Per al paletto Sinistra 4 Tieni In destra 4 Tieni E sinistra 4 5 40 Destra 3 4 Lunga lunga 5 Subito sinistra Sinistra 3 Subito sinistra 3 E Destra 4 E Sinistra 5 50 Stacca Scimola Tornata a destra Meno 2 2 Meno 2 2 50 Sinistra 4 Contro alla roccia Subito sinistra 3 Tieni E Al cartello Sinistra 3 Lunga lunga Vai 50 Tornata a sinistra stretto 40 Ritarda a sinistra 3 Per sinistra 5 Lunga lunga E Destra 5 Lunga lunga Molta attenzione Stacca dentro Interno Per tornante destro 50 Al cartello Sinistra 5 Lascia E al diro in ritardo Sinistra 3 5 Stai sotto 100 Meno 2 9 Destra Sinistra 5 Per molta attenzione Destra In sinistra 4 Meno sotto 30 Destra 4 Meno Ritarda Secca In sinistra 5 Sotto 50 Destra 5 Subito sinistra 5 Subito Destra 4 Lascia molto Per Destra 4 3 5 50 Sinistra Sinistra 5 In Destra 5 Subito sinistra 3 2 E Stop Meno 5 7 Gilli